Avanti da tre, avanti da tre. Un treno domani mattina da Piacenza a Milano, uno verso le 10, uno verso le 11. Sei salita? Sì. Dove? Ceronchi. 14.37, subito, binario 11. Farsi in libertà non c'era di sei no, ma era in ritardo. Avevo pagato 255.600 fra macchine e rimorte. Avanti da tre, avanti da tre. Semperi pa solo, ma è serius, non vedo hands come un'ora. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti